Negli ultimi anni sono aumentati a dismisura i consumi degli alimenti proteici, ovvero di tutti quegli alimenti che generalmente non hanno un elevato apporto di proteine, a cui però vengono addizionate e quindi magari sono stati creati e commercializzati budini proteici, barrette proteiche, anche lo yogurt proteico addirittura. E questi alimenti stanno riscuotendo un grandissimo successo. Purtroppo la stessa cosa non si può dire invece di altri alimenti tipici della dieta mediterranea come la frutta e la verdura. Infatti i dati della sorveglianza della popolazione passi relativi al biennio 2020-2021 hanno mostrato proprio questa tendenza verso un consumo sempre minore di alimenti tipici della dieta mediterranea, quindi frutta, verdura, ma anche carboidrati complessi come pasta e pane. L'effetto di tutto ciò è che in genere si vanno a seguire delle diete iperproteiche e spesso e volentieri anche in maniera inconsapevole. In generale una dieta iperproteica può essere sia salutare che dannosa, in dipendenza poi dagli apporti effettivamente e dalle quantità di proteine e degli altri macronutrienti. Di solito infatti un maggior apporto di proteine significa anche, dall'altra parte, un minore apporto di carboidrati e quindi una dieta iperproteica è spesso e volentieri anche una dieta low carb, ovvero appunto una dieta che apporta pochi carboidrati. In genere per persone che devono perdere peso, che hanno bisogno di una dieta per dimagrire, una dieta iperproteica può essere sicuramente utile. Questo perché le proteine, se rispecchiano quello che è il giusto fabbisogno, consentono durante un percorso di dimagrimento di perdere minor massa muscolare possibile. E questo è sicuramente un bene. Inoltre le proteine hanno anche un buon potere saziante, per cui per una persona che è a dieta, diciamo, per perdere peso, per dimagrire, questo significa una maggiore aderenza alla dietoterapia. Al contrario però una dieta iperproteica può essere anche dannosa o addirittura può portare a gravi danni alla salute. Infatti, soprattutto se si seguono diete iperproteiche per un periodo di tempo prolungato, i problemi che possono incorrere sono diversi. Prima di tutto una dieta iperproteica non è necessariamente ipocalorica. Questo significa che anche le proteine apportano calorie e quindi un eccesso di proteine può portare addirittura ad ingrassare. Dall'altra parte, inoltre, seguire una dieta iperproteica significa anche poter incorrere in disidratazione. Infatti, quando c'è un eccesso di proteine all'interno dell'organismo che derivano dall'alimentazione, queste devono essere in qualche modo smaltite. E per essere smaltite il corpo ovviamente utilizza le urine. E poi ci sono dei casi in cui un eccesso di proteine è fortemente sconsigliato perché può portare a gravi danni alla salute. Questo è il caso, ad esempio, dell'insufficienza renale cronica in cui addirittura l'apporto di proteine dovrebbe essere abbassato al di sotto del fabbisogno normale della popolazione sana. Questo perché, ovviamente, un eccesso di proteine per qualcuno che ha già un danno renale lo va ad aumentare. Ci sono poi anche altri casi in cui una dieta iperproteica in genere è sconsigliata, non tanto per l'eccesso di proteine, ma piuttosto per il minore apporto di carboidrati che quella dieta comporta. Infatti, una dieta low carb è spesso e volentieri anche chetogenica. E una dieta chetogenica non si addice assolutamente a particolari tipi di persone, ovvero persone affette da diabete di tipo 1, donne in gravidanza o in allattamento, e a persone che soffrono di particolari disturbi psichici e del comportamento alimentare. Il consiglio, quindi, è quello di seguire una dieta sana, ovvero una dieta che vada ad apportare il giusto quantitativo di tutti e tre i macronutrienti, proteine, carboidrati e grassi.